Spencer guarirà presto e so che hai revuto il lavoro guarda che non me ne vado finchè non dici qualcosa mi sento sola anche se lei è ancora qui continuerà a vivere vado a casa sono stanca cosa ne dici oh mio dio anche voi fate spese qui hanno le migliori tettarelle di Princeton perché sei entrato qui? perché lui ha mangiato un fagottino mi dispiace tanto deve avermi fatto seguire ne sono sicura non sei incinta evidente perciò o compri la culla per fare un regalo oppure sei convinta che è sempre utile averne una a disposizione ho adottato un bambino mi ha chiesto di farle da consigliere ecco dove ero l'altra mattina mi dispiace non potevo tradire la sua fiducia preferivo non dirla a nessuno finché non ne avessi avuto la certezza da oggi ce l'ho non ti vuoi congratulare con me? se sei felice va bene grazie a tutti Grazie a tutti